Un bilancio più che positivo, quello tracciato dal questore Michele Maria Spina in occasione del suo saluto alla città, dato il suo imminente trasferimento alla questura di Potenza. 287 gli arresti nel 2020 contro i 219 del 2019, 323 nel 2021. È stato un lavoro intenso e proficuo. Mi sono arricchito molto professionalmente ed umanamente. Per questa ragione io ringrazio di vero cuore tutti i poliziotti e le poliziotte della questura di Latina, dei commissariati, delle specialità che hanno dato il massimo per conseguire i risultati che abbiamo ottenuto. E naturalmente un ringraziamento e un saluto affettuosissimo a tutti i cittadini della provincia di Latina e quindi io lado via con un bellissimo ricordo e avendo chiuso un'esperienza molto importante per la mia vita. Molte le operazioni di polizia. Il signor Prefetto, il dottor Maurizio Falco, ha saputo creare intorno a sé una squadra dello Stato, come lui dice, estremamente compatta. La fortuna è che anche i vertici delle altre forze di polizia, attualmente il colonnello Lorenzo D'Aloia e il colonnello Giovanni Marchetti per la Guardia di Finanza, si sono inseriti in modo straordinario in una sinergia leale tra tutte le forze di polizia in ragione delle diverse competenze. Quindi è stato un lavoro fatto in parallelo da ognuno nel proprio settore, con piena lealtà, con spirito di collaborazione, puntando tutti al medesimo obiettivo, alla soluzione dei problemi e al tentativo di rendere la provincia più sicura.